Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Solidali verso il prossimo. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Dobbiamo interagire con affetto, sincerità, amore, donando al prossimo il meglio. Dobbiamo quindi infondere il fervore e un calore intenso attraverso un gesto forte. Essere caritatevoli per dimostrare la nostra solidarietà è un qualcosa di forte per costruire una società più forte, intensa e veritiera. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Solidali verso il prossimo. Dobbiamo interagire con amore, donando al prossimo il meglio. Dobbiamo infondere il fervore che crea il calore attraverso un gesto. Siate caritatevoli verso il prossimo. C'è gente che cerca comprensione e un pezzo di pane come segno del vostro divino amore. Siate mirabili nelle opere e tramite esse sarete gioviali, densi di degne atmosfere, solide e ricche di progetti. Solidali verso il prossimo. Con le virtù positive costruiremo un degno arco che raccolga tutti con pace e lodevole. Grazie e spero la condividerete a tutti. Arrivederci.